Benvenuti in Dubéi & Schaldenbrand. Dubéi & Schaldenbrand è stata fondata in Svizzera nel 1946 dagli inventori del cronografo rattrappante, George Dubéi e René Schaldenbrand. L'azienda ha guadagnato una buona reputazione nella produzione di orologi di alta qualità caratterizzati da design distintivi e artigianato superiore. Il design degli orologi Dubéi & Schaldenbrand è noto per la sua originalità e raffinatezza. Gli orologi spesso presentano casse eleganti, quadranti dettagliati e cinturini di alta qualità. Inoltre, Dubéi & Schaldenbrand è nota per la produzione di orologi con complicazioni orologere, come cronografi, fasi lunari e calendari perpetui. Queste complicazioni non solo aggiungono un tocco di sofisticatezza agli orologi, ma dimostrano anche la competenza tecnica dell'azienda nella progettazione e nella produzione di movimenti orologeri complessi. Dubéi & Schaldenbrand, nel corso degli anni, ha introdotto diversi modelli di orologi che incarnano l'eleganza, l'innovazione tecnologica e l'attenzione ai dettagli che definiscono il marchio. Uno dei modelli più distintivi di Dubéi & Schaldenbrand è il Gran Cronoastro, un omaggio alla loro prima invenzione, il cronografo rattrappante. Questo modello incarna la perfezione tecnica e l'estetica sofisticata. Il cronografo rattrappante, brevettato nel 1946, è stato integrato in molte iterazioni del Gran Cronoastro nel corso degli anni. In sintesi, Dubéi & Schaldenbrand è un marchio orologero svizzero che rappresenta l'eccellenza nell'alta orologeria. La sua lunga storia, la filosofia di design distintiva, la ricerca dell'innovazione tecnologica e la reputazione consolidata nel settore contribuiscono a rendere l'azienda un'icona nel mondo degli orologi di lusso.